L'unica strada che collega Marlino a Crandola in Altavassassi ne è franata da tre anni. Una situazione difficoltosa per i cittadini di entrambi i comuni che presto però si risolverà. Grazie al cielo siamo riusciti ad arrivare al punto definitivo dopo una lunga trattativa. Naturalmente i problemi sono nati sul fatto che la provincia in questi periodi, a parte che non aveva neanche i soldi, ma è diventato un ente che non sa più nemmeno cosa fare. Abbiamo dovuto intervenire nel 2014 per metterla in sicurezza perché altrimenti c'era il rischio di frana a valle. Poi giustamente ce l'avevano anche detto che i soldi non c'erano e che quindi i lavori sarebbero andati per le lunghe, però per le lunghe va bene, però che non si iniziasse mai non andava più bene. Finalmente grazie al cielo abbiamo fatto l'accordo e i tempi sono quasi stati rispettati. C'è stato un paio di mesi di differenza, comunque per agosto vogliamo rendere transitabile la strada sui 5 metri originari e poi a settembre faremo le finiture decisive. È importante che adesso riusciamo a fare questo benedetto lavoro. Finalmente la provincia adesso sta svolgendo l'intervento per la rimozione del problema, la messa in sicurezza dell'area. Finalmente il muro verrà ricostruito e la viabilità potrà essere ripristinata. Nel caso del nostro paese abbiamo il problema che l'autobus che collega la linea dell'Alta Valsassina deve passare per forza di qua, oltre ai problemi di senso unico alternato che ci sono anche per gli altri veicoli. È un progetto di 300 mila euro che riguarda il comune di Marnio Crandola, Torre De Busi e Dervio. Riguarda la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali e sistemazione dei parapetti. L'ambito più importante è qui a Marnio Crandola dove verrà riqualificata quella che è la strada ormai da anni purtroppo in parte chiusa e che è l'unica comunicazione con il comune di Marnio. Costo complessivo quasi 90 mila euro, soddisfazione da parte della provincia perché anche in un periodo di ristrettezze economiche comunque si riesce in qualche modo a venire incontro alle necessità del territorio. I tempi del cantiere sono stimati intorno all'inizio di agosto per la risistemazione e verso fine settembre l'ultimazione dell'opera.